E' chiaro che poi ci sarà una resa dei conti sui metodi che sono stati usati per determinare i candidati. La sua candidatura era stata tra quelle della primora. Dopo aver servito i suoi concittadini come sindaco si sentiva pronto a rappresentare i Veneti a Roma. Un desiderio che si è infranto sulle caselle e sugli incastri dettati dalle alleanze Legacy Forza Italia e Noi per l'Italia Udc, ma anche su una lotta interna che non mancherà di lasciare qualche strascico in casa del Carroccio. Nostalgico delle preferenze il sindaco sceriffo dell'Alta Padovana Renato Bobo Miatello. Anche il discorso dei collegi dove si può mettere uno su dieci collegi. No, rischi il tuo culo, te lo metti lì e se sei bravo la gente ti vota. E se no vai a casa. Uno non può essere candidato su due collegi, tre. Vai su, uno, un culo, una carrega. Invece ho visto che non è proprio così e mi dispiace tantissimo di questo. Da 24 ore non fa altro che rispondere a telefonate e messaggi. Qualche cittadino si è addirittura presentato al suo ufficio. Giornata amara per lui, ma anche per la Lega. Dico solo una cosa, se c'erano dei parametri, se c'erano delle regole, se c'erano dei criteri che erano stati decisi sia da Salvini e da altri, dovevano essere rispettati. Sindaci al secondo mandato, candidati con esperienza lavorativa tra i criteri cui si rifà a Miatello, lo hanno contattato in tanti. Il sindaco di Tombolo, Andretta, Gianri Boratto di San Martino di Lupari, Alessandro Bollis di Carmignano, lo ha chiamato anche il presidente del Veneto, Luca Zaia. Abbiamo anche constatato che tutti i sindaci legati a Zaia sono stati sistematicamente esclusi dalle liste. Non capisco nella maniera più assoluta questa logica. Archiviate le elezioni, le sue dimostranze le farà valere nel direttivo provinciale e intanto chi sarà eletto e rischia di contrarre quella che definisce la romanite, il sindaco Miatello è già pronto a presentare il conto.